Allora facciamo partire questo video sulla centratura. La centratura è la fase fondamentale della lavorazione al tornio perché se non abbiamo una centratura non possiamo creare nessun oggetto. Nella fase della centratura possiamo spingere il tornio lievemente più veloce. La prima operazione che facciamo è con la mano sinistra di schiacciare lievemente l'argilla verso il basso. Facciamo una pressione dall'alto verso il basso e la mano destra sarà fissa sul piatto, il mignolo ben fermo sul piatto e le altre mani avvolgono l'argilla. Vediamo, spingiamo con questa parte qui verso il basso e facciamo la prima pressione. Adesso una parte fondamentale per riuscire nella centratura è quella della conicizzazione verso l'alto e poi lo schiacciamento verso il basso. È una fase che dovremmo ripetere tante volte anche perché è utile perché in questo modo l'umidità si distribuisce uniformemente nell'argilla. Perché noi quando bagniamo un po' con l'argilla e ripetiamo i movimenti, quindi verso il basso e poi verso l'alto, in questi movimenti qui l'acqua si posizionerà uniformemente in tutto il corpo argilloso. Allora vediamo come. Riportiamola verso il basso e andiamo piano piano. Sempre ci sono delle spinte qui verso il basso. Allora immaginiamo di ripartire da questa fase qui. Quindi io che faccio? La mano destra si colloca con il mignolo in quest'incavo alla base del piatto. La mano sinistra si colloca liveamente più avanti di quella destra. Immaginatevi come se ci fosse una linea retta che attraversa il centro del tornio e le nostre mani, la destra e la sinistra, stanno parallele, stanno sempre parallele e quasi mai invadono lo spazio dell'altra mano. Stanno parallele a questa linea centrale. Quindi che facciamo? La mano destra stringe come se fosse, come se questo fosse un tubetto di identificio da stringere, mentre la mano sinistra con questa parte qui spinge verso la mano destra, spinge verso l'interno della mano destra. Tutte e due insieme vanno verso l'alto. Quindi lascio questa mano un po' più aperta così riusci a vedere. La mano destra sta stringendo il tubetto e va verso l'alto. La sinistra spinge l'argilla verso la mano destra, in questo modo qua. Quando vogliamo togliere le mani dall'argilla, immaginiamo che ci sia ancora un po' di argilla, apriamo delicatamente in modo da non decentrare la massa argillosa. Quando invece vogliamo scendere, vogliamo andare verso il basso, vogliamo spingere l'argilla verso il basso, quello che facciamo è posizionarci con questa parte qui della mano sinistra sulla punta dell'argilla, in teoria insieme al pollice della mano destra, metà spazio uno, metà l'altro. E spingiamo, stringendo gli addominali, spingiamo la mano sinistra verso il basso. La mano destra contiene l'argilla, spingiamo con la mano sinistra. Quando la mano destra riesce a toccare il piatto, si ferma in questa posizione, in modo da assorbire, diciamo, in modo da plasmare la forma dell'argilla che vuole andare verso l'esterno e bloccarla in un punto. La sinistra con questa parte spinge, la destra col pollice schiaccia sempre questa base, in modo da tenerla piatta. Inumidiamo un poco, quindi la sinistra spinge, spinge verso il basso, la destra è ferma, decide la mano dove va l'argilla, non è l'argilla a spostare la nostra mano, vedete il mignolo, l'anulare e il medio, l'indice, sono fermi e sono messi in diagonale. E praticamente fanno quest'angolo e quest'angolo è quello che poi prenderà la massa argillosa. Ricominciamo, quindi riportiamo la mano destra che fa, stringe il tubetto, vi faccio vedere solo con la mano destra, e va verso l'alto. Da sola non riesce a fare bene il lavoro, ci vuole anche la mano sinistra, soprattutto quando la massa argillosa diventa un po' più grande. Qui sto usando per esempio un chilo, andiamo in circa un chilo di argilla, su questi torni super economici, quindi vedete come riesce tranquillamente a gestire il carico di un chilo e più. La mano destra stringe il tubetto, la sinistra l'accompagna, stringe verso la mano destra. si incontrano e il pollice della mano destra sta sempre sulla base, in modo da renderla sempre piatta, in modo da evitare che si formi un incavo sulla base. Ripetiamo l'operazione, quindi spingo con il mignolo, faccio un leggero incavo alla base. La mano destra, questa è l'operazione che fa, stringe il tubetto. In questo modo. Adesso mettiamoci anche la sinistra e vedete come sarà più facile. La mano sinistra, guardate, metto la destra con la sinistra, la mano sinistra spinge verso il centro e quindi assottiglia ancora di più questo cono. Vedrete come una volta dopo l'altra, dopo aver effettuato queste operazioni un po' di volte, l'argilla sarà molto più morbida. Non esageriamo a mettere troppo acqua, altrimenti sarà troppo morbida, troppo morbida e potrebbe collassare. Ma sarà comunque più facile da centrare. In questo caso sto scendendo verso il basso, quindi la mano sinistra spinge verso il basso, la mano destra contiene, il pollice sta qui sopra insieme a questa parte della mano sinistra, appena la mano destra riesce a raggiungere il piatto, si ferma, fa forza, c'ho praticamente il braccio che fa abbastanza forza, si piazza sul tornio sul piatto e non fa andare l'argilla al di fuori dal limite che le dà la mano. Riprovo, vado in su, stringo con tutte e due, porto verso l'alto, direttamente vado verso il basso e provo a centrare. Quando penso che ho centrato questa massa argillosa e voglio togliere le mani, sempre delicatamente le porto verso l'esterno. Dopo la fase dell'apertura posso anche rallentare un po' il tornio per fare le altre fasi, però ripetiamo ancora una volta la conicizzazione, facciamola un poco più veloce, mettiamo un po' d'acqua, proviamo a fare un cono un po' più alto, evito sempre che sulla punta dell'argilla si formi un qualche avvallamento, mi serve bello piatto, bagno un altro po' con l'argilla, col mignolo spingo un pochino verso l'interno e creo questo incavo, e con la mano sinistra spingo verso il centro e doso la forza in modo da mantenere questa forma conicizzata. conicizzata. Potrei anche farla ancora più in alto e adesso riporto verso il basso. riporto ancora verso il basso, la mano destra adesso, questa qui, si ferma in quella posizione, la mano sinistra avvolge l'argilla, anch'essa la ferma in questo punto qui, il pollice della mano destra che appiattisce la punta e ho centrato la mia argilla e adesso sono pronto alla fase dell'apertura, che vedremo nel dettaglio in un prossimo video. quindi una volta che ho centrato la mia massa argillosa posso fare l'operazione seguente, che è l'apertura. Allora, un consiglio che vi do, andatevi a rivedere tutte le fasi che ho appena fatto al tornio e ripetetele tantissime volte. L'unico modo per imparare la centratura è la ripetizione. Più ripetizioni facciamo, prima impareremo. Non c'è nessun segreto sulla centratura. Non servono particolari forze, ma serve solo la pratica per capire come mettere le mani. Chiaramente questo è il mio modo di centrare, ne esistono molti altri. Magari in qualche altro video ne vedremo qualcun altro. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, condividete, iscrivetevi al canale per non perdervi nessun video di quelli che pubblicherò su quella che è la mia più grande passione, ovvero la ceramica. Centratura, apertura, conicis e innalzamento. Centratura, apertura, conicis e innalzamento. Se questo mantra imparerai, maestro del tornio diventerai.